Una tradizione molto antica, quella delle tonnare del Sulcis, che però quest'anno non praticano più la mattanza del tonno, ma solo la sua cattura nelle camere della morte, per poi essere trasportato, vivo e via mare, fino a Malta, dove dopo l'ingrasso verrà lavorato. I tonnarotti sulcitani sono preoccupati sia per la riduzione delle quote stabilite dall'Unione Europea, sia per il rischio di perdita di un'antica tradizione. In termini di quantità di pesce, devo dire che siamo pienamente soddisfatti. Il problema sta che non possiamo pescarlo. Come è noto, le quote quest'anno sono state ancora ridotte di 20 tonnellate, chiaramente tutto questo sta compromettendo il risultato di una serie di anni che vedeva invece il pescato che diminuiva, adesso che il pescato sta diventando il tonno, cioè sta diventando di nuovo una risorsa importante, ci vengono tagliate le quote. Se l'Europa considerasse l'importanza della pesca del tonno nel Sulcis, il ritorno economico ed occupazionale ne avrebbe giovamento, con la stabilizzazione di almeno 30 addetti a tempo indeterminato. Tutti i sistemi di pesca possono pescare un 5% di sottotaglia, cioè di tonni sotto i 30 kg. Le tonnellate fisse no. Noi se peschiamo tonni sotto taglia sono immediatamente sequestrati, verbali. Noi non abbiamo questo beneficio del 5% che hanno tutti. È un'ingiustizia che però non si capisce perché nessuno vuole sanare o mettere a posto a livello europeo, perché è una cosa a livello europeo questa. Grazie.